L'arte del cammeo e del corallo in vitrina al Parlamento europeo. È stata l'occasione per i maestri orafi di esporre le proprie opere al Parlamento europeo e di accendere un importante riflettore su questo settore. Con queste parole l'eurodeputata campana e vice coordinatrice regionale di Forza Italia, Isabella Adinolfi ha concluso con successo la mostra evento Tradizione Campana, l'arte del cammeo e del corallo, ospitata presso il Parlamento europeo a Bruxelles dal 26 al 30 giugno. L'evento, promosso dall'onorevole Adinolfi, ha offerto l'opportunità di far conoscere al pubblico internazionale la bellezza e l'eccellenza della tradizione unica al mondo del cammeo e del corallo di Torre del Greco, contribuendo così al rilancio del settore a livello globale. Ho deciso di organizzare questa esposizione al Parlamento europeo per portare un pezzo della nostra campania qui a Bruxelles. L'arte del cammeo e del corallo di Torre del Greco rappresenta un'eccellenza ancora troppo poco conosciuta in Europa e mi auguro che anche grazie a questo evento possa essere scoperta ed apprezzata in altri paesi oltre al nostro. Ci troviamo di fronte a un'occasione unica per celebrare non solo la bellezza senza tempo di queste opere d'arte, ma anche di riconoscere l'importanza dell'artigianato e il suo impatto sullo sviluppo dei territori. Per questo, oltre agli artigiani che da generazioni si tramandano quest'arte, ho deciso di portare qui anche i ragazzi dell'Istituto Don Bosco di Torre del Greco, che hanno deciso di imparare l'arte dell'intaglio per preservare e continuare la tradizione sicolare della propria città. Sono stati presenti prestigiosi maestri incisori, tra cui Alfonso Vitiello, Luigi Bosone, Crescenzo Ombretti, Giuseppe Marotta, Antonio Di Giuseppe e Michele Cicalese. Presenti all'iniziativa anche il presidente di Confartigianato Napoli, Enrico Inferrera, la professoressa Maria Dolores Morelli dell'Università degli Studi della Campania, Luigi Ivan Vitelli, e la professoressa Francesca Ferrari dell'Università degli Studi dell'Insubria. L'Istituto Comprensivo Don Bosco d'Assisi di Torre del Greco ha partecipato all'evento con una delegazione di alunni accompagnati dalla dirigente scolastica Rosanna Mirati e dal professore Vittorio Farese. Dario Colombo, commissario cittadino di Forza Italia a Torre del Greco, ha espresso gratitudine all'eurodeputata di Nolfi per aver offerto l'opportunità di promuovere l'arte del cammeo e del corallo a Bruxelles. Il successo della mostra ha gettato le basi per futuri sforzi di valorizzazione e promozione dell'arte del cammeo e del corallo a livello globale. Ha concluso Romina Stilo, già consigliere comunale di Forza Italia a Torre del Greco.